si sono già incontrate durante questa coppa italia fra i brasil e crisis precisamente nel girone qualificatorio ma questa è la finale della coppa italia della lega della serie a della lega calcio a 5 sulla sinistra in direzione direzione di sousa ancora bernarski rischia la pressione recupera la palla corsi la conclusione l'ottima risposta da terra da parte dell'estremo difensore rigiocato in velocità l'oreti sale palla al piede pressato ma va alla conclusione ci mette le mani il portiere sangi la mette in calcio d'angolo salvando la propria porta ancora corsi poi l'oreti l'oreti pensa per un attimo alla conclusione poi serve corsi al limite dell'area di rigore che si gira la palla termina in rete si sblocca la finale 1 a 0 per i crisis a tagliare il campo a cercare già paolo ancora lo scambio al limite dell'area di rigore bernarski prova a girarsi ma la conclusione verso la porta che però si spenge alta ottima occasione questa per il fly brasil davanti bernarski a cercare rama la lotta con fioretto ci mette la testa ma la recupera ancora bernarski che fa la conclusione improvviso pareggio del fly brasil 1 a 1 usa sale palla al piede punta vittadello lo salta sosa ancora sosa ne salta anche un altro va al tiro in porta palla che però termina fuori verso sosa ha davanti a sello reti e vittadello provano ad accentrarsi per calciare con il destro va all'indietro su bernarski che va al tiro in porta la traversa però lo ferma dal possibile 2 a 1 in direzione di vallocchia ancora sosa in area di rigore l'appoggio fuori la conclusione verso la porta di bernarski che fa 2 a 1 per il fly brasil grazie alla sua doppietta giocata in avanti sul rama al limite della rigore prova a girarsi non ha spazio serve bernarski che arriva e con un destro raso terra fa 3 a 1 tripletta che sta decidendo la finale di coppa italia per il numero 5 del fly brasil calcio d'angolo angolo battuto proprio su pallacchia che con il destro trova l'angolino dove pacifici non può arrivare e fa il 4 a 1 per il fly brasil va in avanti vittadello a servire corsi si gira corsi un'ottima risposta da parte di sangi reazione di fioretto pensa alla conclusione chiuso però va a giocare su malarbi che si gira con il mancino palla che termina in calcio d'angolo perché sangi ha parato anche questa progressione malarbi prova il cross al centro chiuso bernarski va alla conclusione dalla sua metà campo palla che però si spinge alta si gira a malarbi non ha spazio ma all'occhio ti porta via il pallone poi è chiuso fallosamente sarà quindi tiro libero per il fly brasil a battere sarà sempre sangi parte sangi con il destro il portiere batte l'altro portiere e fa 5 a 1 polchitto sulla destra del servizio in direzione di fioretto va al centro deviata la sfera calcio d'angolo ma non c'è più tempo termina qui la finale di coppa italia della serie della lega calcio 5 con il fly brasil che si aggiudica la coppa battendo 5 a 1 i crisis ma non c'è più tempo termina la coppa battendo 5 a 1